E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi non so cosa faremo perché deciderà lei. Allora, in pratica oggi farò un dolce che mi ha segnato la mia brucchiera, la salutiamo. E in pratica lui non vedrà cosa farò, quindi andrò in un'altra stanza. E dopo, quando avrò finito il tutto, lo vendo e lo porto di qua e lo assaggia. Ah, quindi dovrò indovinare appunto il miscuglio che farà. Dai che buono! Speriamo, pregate anche voi per me, grazie. E' buono ragazzi, fidatevi. Bene, adesso vi farò vedere gli ingredienti che ci servono. Su, vattene via, non ti voglio. Ok, ciao. Ok, ciao. Ciao. Allora ragazzi, eccomi qua. Allora, ci servirà il latte, mascarpone, la nutella, il cocco e poi i pavesini. Adesso prendo le cose che mi servono, quindi ciotole, coltelli, robe e partiamo. Ok ragazzi, ho preso tutto. Ops, scusate. E adesso prendiamo un piatto e mettiamo tutti i pavesini. qua. Dobbiamo fare una cosa veloce, diciamo. Perché se no Franci è sempre impaziente, quindi... Ok, fatto! Adesso ho preso l'ingrediente più importante. Lui non deve sapere perché non gli piace, cioè non gli piace. Dice che non è salutare, quindi noi, giusto per fargli un favore, la mettiamo. Allora, dobbiamo prendere un po' di nutella e metterla nel pavesino, così. Ok ragazzi, quelli con la nutella li ho finiti di fare. Adesso mi dà un attimo le mani che sono un po' sporche. E procediamo con la fase successiva. Ed eccomi qua di nuovo. Adesso apro anche questi pavesini e li metto come prima. perché dovremmo metterci un altro ingrediente. Ecco fatto. Adesso apriamo il mascarpone. Così apre. Ok. Facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto con la nutella. Ok ragazzi, ho finito anche quelli con il mascarpone. Mi lavo un attimo di nuovo le mani e arrivo per il passaggio successivo. Ok ragazzi, ci siamo. Ho messo in questo piatto la nutella e in questo piatto il mascarpone. Adesso dobbiamo unirli insieme. Quindi prendiamo uno di mascarpone e uno di nutella e li appiccichiamo così. Ok ragazzi, ho finito. Adesso dobbiamo prendere questi due cioccoli. Una e una due. Li dobbiamo mettere in uno al latte e in uno al cocco. Lo faccio veloce e vi mostro. Ok ragazzi, eccoci. Qua ho messo il latte, mentre qua ho messo il cocco. Allora adesso dobbiamo prendere un pavisino e immergerlo così nel latte e poi lo immergiamo nel cocco e glielo buttiamo sopra. E viene così. Adesso facciamo così per tutti. Ok ragazzi, il dolce è finito. Guardate, è venuto così. E adesso vado a chiamare Franci a dirgli dopo quasi tre quarti d'ora. Ok, il dolce è finito. Andiamo a prendere Franci. Ragazzi. Vieni qua. Non mettere le mani sul tavolo. Ok ragazzi, eccoci qua. Ho paura, ma mi piace? Sì. Al cioccolato? No. Cocco? Sì. Sì? Sì. Sai che forse so. Lo dico, provo a dire, a indovinarlo dall'odore. Le palle di cocco? No. Aspetta che ti prendo però un scotex perché tu ti sblodorerai tutto. Devi andare più avanti. Non lo tollerai. Sì. Non è brodo. Quanto grande è? È buono. Tavesini? Eh? Cocco? Mascarponi? Sì, va bene. Basta. E latte? Ma manca una cosa. Un ingrediente, vero? È difficile? No. Acqua? Ma che acqua? Allora, tu dici che fa male. Non ne ho idea, a mia rete. La Nutella. Ah, non è male, dai. Ma ragazzi, ma quanti ne hai fatti? Ma hai fatto vedere che hai fatto questa roba? Ma dite voi che, dite, 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 dite... Ma che ho... È impazzita, ma guarda quanti ne hai fatti. Ma chi li mangia tutti? Tutti, tu. No. Dai, allora, un bel otto. Otto? Eh, lo so. Brava. Bene, ragazzi, lui ha dato il voto. Qui ce n'è per tutti. Chi vuole... Anche per voi venite qua. Sì, esatto, venite a prenderlo. E niente. Iscrivetevi. Sempre che interrompi, sai, no? Iscrivetevi al canale che è il 45% di voi non è iscritto. Sì. Sì, molto bene. Però iscrivetevi anche voi. E niente. Attivate la campanella, cosa o niente. Dove a dire se ci vediamo in un prossimo video. Ah. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.